io sono nata a firenze da molto piccola sono andata in africa nel periodo in cui c'era l'impero e mio padre era andato prima di noi per motivi di famiglia quello abbiamo raggiunto e siamo stati la per 10 11 11 anni fino al 48 diciamo dal 37 al 48 io li ho passato tutta la mia vita mi sono formata ho fatto le mie scuole e quindi ho lasciato mezzo cuore la noi eravamo alla smara la capitale dell'eritrea allora io sono arrivata in africa che avevo 8 anni e da lì sono venuta via che ne avevo 19 ho fatto tutte le mie scuole dalle elementari fino a tutto il liceo e lì è stata la mia formazione il mio carattere il mio modo di vedere di pensare sta in africa noi eravamo alla smara 2400 metri un clima sempre primaverile un sogno una meraviglia e come comunità eravamo italiani provenienti da tutte le regioni d'italia per cui era una comunità mista se possiamo dire così che aveva un modo di parlare strano perché non con una specie di dialetto non non era un dialetto era un italiano fatto in quella maniera la bassa italia l'alta italia non e non esisteva niente il figlio del falegname il figlio del professionista non esisteva nessun tipo di classismo questo lo posso dire chiaramente come non esisteva neanche il razzismo perché i bianchi e i neri così si chiamano erano divisi cioè i neri venivano nella città bianca diciamo così perché inutile dir di no la città bianca l'abbiamo fatta noi tutta dalle strade dalle dalle acquedotti le ferrovie tutto quello che non c'era niente venivano di buon grado a lavorare e di buon grado li facevamo lavorare quindi c'era una comunità tranquilla io quello che sento qui musulmani così a scuola avevamo l'ateo avevamo il musulmano avevamo i cristiani i valdesi quando era l'ora di religione perché allora c'era l'ora di religione questi normalmente si alzavano andava in aula magna nessuno faceva caso nessuno faceva beo tranquillo tutto sereno quindi io devo dire che nessuna lotta fra i cristiani musulmani copti e cattolici non l'ho mai visto questo per venire via ci siamo dovuti mettere in lista d'attesa così si chiamano per poter rimpatriare con le navi del rimpatrio perché noi ci hanno buttato fuori mio padre ha perso tutto noi 16 anni qua già fatti in africa persi completamente la casa la ditta tutto siamo stati anche in campo di concentramento che non è un campo di concentramento come quelli che c'erano qua assolutamente no però era chiamiamolo come volete recintato non si poteva uscire eravamo tutti in capannoni che una volta erano stati le caserme degli ascari potete immaginare un po che cos'era insomma no e lì per sette otto mesi siamo stati la senza nessun sussidio niente perché noi avevamo avevamo del nostro che l'abbiamo consumato finito o si andava in argentina o si andava in sud si andava in australia o si ritornava in italia siccome in italia per fortuna noi non eravamo scappati per miseria questo è una parentesi avevamo la casa e negozi eccetera siamo tornati in italia e venire via è stato strapparci da un posto dove si stava molto bene io sono nato nel 1924 quindi pochi anni dopo la prima guerra mondiale e in famiglia c'era un lutto per la morte di mio zio arturo debonetti che è morto a malgaru zures in combattimento nel dicembre del del 1915 e in quel momento c'erano ancora le emozioni relative a agli ultimi avvenimenti di quella guerra poi il mio padre ha trovato un posto a venezia e quindi all'età di sette anni sono partito da nago sono stato a venezia sono partito piangendo perché io sono nato in questa casa dietro alla casa c'è un bel giardino abbastanza grande per un bambino molto adatto insomma e partivo per venezia senza sapere quale sarebbe stato il nostro avvenire non conoscevo la città ero troppo a sette anni un bambino non è non è in grado di capire ancora quindi quando sono arrivato a venezia cominciato a camminare per quelle cali strette mi sono sentito veramente male comunque io avevo fatto a riva del garda gli esami di stato per la missione alla seconda elementare perché la prima non l'ho mai fatta mi hanno insegnato in famiglia hanno comprato un abecedario che ho ancora che tengo ancora e ho imparato a scrivere a leggere con quello però siccome in famiglia tutti disegnavano ho anche imparato a disegnare quindi per me era molto più importante il disegno di tutto il resto e quando ho fatto questo famoso esame io mi hanno detto di fare un disegno i maestri e ho cominciato a disegnare su una lavagna e ho disegnato del lago di garda le montagne a certo punto loro si sono stufati perché avevano da fare quindi mi hanno detto bene 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 basta così anche io ho piantato un chiodo e sono stato lì finché non ho finito tutto e la scuola era una scuola popolare un quartiere popolare di venezia a san steen era come un piccolo manicomio perché c'erano insomma erano tutti scatenati bisognava vedere che roba no quando c'era la maestra c'era un certo ordine quando la maestra andava usciva aveva da fare qualcosa veniva o il bidello o il maestro di quarta veniva lui a tenere la classe ma per farvi un'idea per un'idea io mi ricordo uno dei miei compagni di classe con una penna allora noi usavamo delle penne col penino d'acciaio no col penino d'acciaio che un penino una punta mica e di un ragazzo che aveva una penna piantata qua perché si tirava se le tiravano le penne no e noi scherzeva niente un altro spettacolo era poi questo un po quando era un po più grande perché da piccino piccino non si capisce niente però quando avevo 10 12 anni mi divertivo un mondo perché la famiglia aveva diverse campagne quindi avevamo una certa produzione di frumento allora la macchina per battere il frumento per per levare la pula tutto il resto entrava nel cortile e faceva una nuvola di fumo quando quando lavoravano e allora una cosa che i bambini fa piacere più confusione e più ci divertiamo vero